Proseguono gli appuntamenti dell'Out Out Festival, la rassegna dedicata alla lettura alla cultura nella suggestiva cornice di Piazzetta Palombo a Campobasso, la conferenza stampa di presentazione dei prossimi eventi che fanno parte del ricco cartellone. Un evento che si inserisce nel nostro cartellone più generale di eventi per l'estate di Campobasso e in particolare in quello che avevamo pensato per Piazzetta Palombo, e cioè libri in piazzetta. Stiamo mantenendo due impegni che avevamo preso, uno quello di far sì che Campobasso potesse diventare nel tempo capoluogo, nel senso proprio vero del termine, quindi facesse da volano per tutte le altre iniziative che già si svolgono sul territorio, ma poi un altro impegno era quello di valorizzare Piazzetta Palombo. Lo abbiamo fatto in tanti modi, quindi sia riassegnando i box e inserendo non solo l'artigianato ma anche produttori di agroalimentare, con la ciclostazione che è di fianco e che in qualche modo porta una mobilità sostenibile al centro della città e con eventi che in qualche modo siano tarati ovviamente su un luogo più piccolo e che insomma soffre un po' per il contingentamento, però tutto sommato lascia un'atmosfera piacevole per chi vuole ascoltare i nostri autori non solo del posto ma anche insomma da tutta Italia. In questa ultima tranche della stagione estiva dell'Out Out Festival avremo sei appuntamenti si inizia il 25 agosto al Castello Carafa di Ferrazzano, una location incantevole con Giorgio Paglione che è un autore locale poi avremo Nicola Mariuccini, un altro autore molto interessante che farà due date quindi Ferrazzano, questa volta però in Largo Mastro Giovanni che è un'altra location davvero identitaria del Molise e poi il 28 agosto a Campomarino nella splendida piazzetta di Largo Santa Maria a Mare il primo settembre qui a Piazzetta Palombo a Campobasso ci sarà la sociolinguista Vera Gheno che presenterà il suo libro Trovare le parole il 2 settembre saremo ancora qui a Piazzetta Palombo a Campobasso con Simonetta Tassinari e infine chiudiamo il 5 settembre a Campomarino con Flavia Piccini e Carmine Gazzanni Storia di una scomparsa che è questo libro che sta andando moltissimo edizioni Fandango allora il tema è il tema conduttore del filo, conduttore della lettura, i libri, la cultura la cultura e la cura è lo slogan del nostro festival e ci fa tantissimo piacere, mi fa in qualità di curatrice vedere come questo messaggio stia permeando quasi tutti i comuni del Molise tant'è che quest'anno appunto dicevamo siamo stati anche a Pietrabbondante nel bellissimo Teatro Sannita, siamo stati a Castel San Vincenzo, qui a Campobasso quindi pian pianino Portocannone, Campomarino, Termoli quindi stiamo infondendo delle piccole gocce di cura ecco portare la cultura con tappe, insomma cultura itinerante Sì, itinerante perché siamo una regione piccola e grazie anche a queste iniziative che ci leghiamo facciamo rete, sinergia e si scoprono sempre delle realtà bellissime la voglia di fare da parte degli amministratori ma anche del pubblico che ci segue